I pomodori ripieni sono semplicissimi da preparare, la soluzione perfetta per un pranzo estivo o come portata in una cena con gli amici. Ecco come prepararli. Cuoci 40 g di riso in acqua salata e scolali al dente. Taglia a metà due pomodori e svuotali dai semi con l'aiuto di un cucchiaio. Con la mezza luna, trita mezzo spicchio d'aglio e un po' di prezzemolo. Unisci il trito ottenuto al riso, aggiungendo un po' di pane grattugiato, origano e un filo di olio extravergine di oliva. Riempi le quattro calotte di pomodoro con l'impasto ottenuto e disponile in una teglia con un foglio di carta forno. Spolvera con il rimanente pangrattato e aggiungi un filo di olio extravergine di oliva. Metti la teglia nel forno pre-riscaldato a 150 gradi per circa 20 minuti. Una volta cotti, servili guarnendo con una foglia di prezzemolo fresco. Consiglio Prima di infornare, puoi spargere sui pomodori un po' di buccia di limone grattugiata. Li renderà profumati e invitanti. Iscriviti al canale per essere avvisata alla pubblicazione di nuove ricette. Ti interessano piatti speciali? Scrivi un commento! Se vuoi puoi vedere altri video cliccando sulle tipologie di ricette. E ricordati di cliccare mi piace e di condividere con i tuoi amici. Alla prossima ricetta! Iscriviti al canale